Siamo opposizione in Consiglio regionale ma non abbiamo firmato la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente Pittella perché riteniamo importante risolvere i problemi della comunità. Lo ha rivalito nel corso di una conferenza stampa il consigliere regionale del gruppo misto Aurelio Pace che ha illustrato le mozioni presentate con il consigliere Mollica a seguito dell'inchiesta sul petrolio in Basilicata. Ho usato esattamente il termine di mozione di fiducia, credo ci vuole più coraggio oggi in Basilicata a parlare di fiducia che di sfiducia. Intanto tecnicamente la mozione di sfiducia deve essere corroborata e sottoscritta da otto consiglieri quindi la mozione di sfiducia presentata è una mozione finta e quindi è un fatto puramente tattico. Noi riteniamo che in questo momento le istituzioni abbiano bisogno di forza e non di essere indebolite e che l'analisi sul petrolio sia un'analisi storica degli ultimi 15 anni e non un'analisi che deve colpire una parte della politica regionale per rafforzarne un'altra. Non credo che sia il tema del cannibalismo politico quello che serve in questi tempi. Ho dichiarato ieri che non sono contro il petrolio aprioristicamente, io sono contro i delinquenti e i nemici di questa terra e per questo nella mozione abbiamo proposto e siamo felici che il Presidente Pittella l'abbia recepita la richiesta di costituzione di parte civile della regione contro chiunque ha recato danni ambientali a maggior ragione se viene fuori il disastro ambientale che tutto ciò che noi ospichiamo non avvenga mai. Grazie. 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 Grazie.